Seconda parte della nostra assegna sportiva, ci concentriamo su quanto è accaduto appunto con questa tragedia dello Schape, questo incidente aereo a Medellin che ha davvero spento numerose vite e anche un sogno sportivo. Torniamo sulla gazzetta dello sport, la tragedia dello Schape, ritrovate le scatole nere e quindi tutti i dubbi e le polemiche in queste ore. Adesso si cercano le ragioni dello schianto aereo, due le ipotesi principali, un guasto elettrico o con più probabilità l'esaurimento del carburante. Intanto l'ex calciatore del Livorno, Miguel Borja, oggi all'Atletico National, rivela dettagli inquietanti mentre i tifosi dello Schape rendono omaggio alle vittime, dove si unisce lo shock e la commozione e si mescolano in modo inevitabile col passare delle ore. Il mistero sull'incidente aereo che ha tragicamente posto fine alla favola della Schapecoense potrebbe presto essere svelato. Nel tardo pomeriggio di ieri le squadre di soccorso impegnate sul luogo del disastro hanno trovato infatti due scatole nere del velivolo precipitate a pochi chilometri da Medellin. Il saldo definitivo è di 71 morti, tra cui 20 giornalisti, 8 dirigenti, 17 membri dello staff tecnico e 19 giocatori e 6 sopravvissuti, 2 membri dell'equipaggio, 3 giocatori e un giornalista. C'è anche il video di Machado, uno dei protagonisti, prima del disastro, davvero immagini che fanno davvero commuovere un po' tutti le ipotesi di questa tragedia. Sono per il momento 2, abbiamo detto, un guasto elettrico con più probabilità all'esaurimento del carburante addirittura, una concatenazione di cause perché in base alle informazioni e ai dati raccolti finora si sa che dopo aver lanciato un segnale di emergenza per problemi all'impianto elettrico, il velivolo 2933 della compagnia Lamia si è visto rifiutare la richiesta di atterraggio prioritario. Il velivolo che trasportava la sciapecoense potrebbe quindi aver esaurito combustibile addirittura senza ricevere l'ok per l'atterraggio. La prolungata rotta circolare effettuata dal velivolo prima dello schianto, la bassa velocità registrata dalla torre di controllo di Medellin prima di perdere i contatti e la mancata esplosione al momento dell'impatto rafforzano ulteriormente questa ipotesi. L'esame delle scatone nere comunque dovrebbe fare chiarezza sulla dinamica della tragedia. Le polemiche intanto divampano l'ex calciatore del Livorno, Miguel Borca, oggi punta di diamante dell'Atletico National, ad esempio ha rivelato di aver viaggiato su quell'aeromobile ma di aver vissuto un autentico incubo. Avevamo paura perché si tratta di un aereo minuscolo obbligato a continui scali per il rifornimento di carburante. Arriva però anche l'omaggio dei tifosi, una chapecò in lutto che ha reso l'omaggio alle vittime. Sul monumento simbolo della città, la statua del movimento Do des Bravador, è stato a posto un grande drappo nero mentre migliaia di tifosi si sono riversati per strada scatenando cori e canti per i giocatori scomparsi. Una tragedia che continua perché oltre alle vite che si sono spente, oltre alle vite che si sono tragicamente segnate per coloro che sono rimasti, i cari che sono rimasti e che dovranno comunque affrontare una vita senza i propri affetti arriva anche un ulteriore dramma perché è stata amputata la gamba destra al portiere Folman i giocatori di solo 24 anni, sopravvissuto, la sciagura aerea, si trova adesso in terapia intensiva con condizioni stabili. La vittima, una vittima diciamo parziale, è vero che ha avuto salva la vita, ma il portiere Jackson Folman, uno dei tre giocatori sopravvissuti all'incidente aereo, di soli 24 anni appunto, ha avuto l'amputazione della gamba e in questo caso la tragica conseguenza di questo schianto. I medici dell'ospedale colombiano Jimena Suarez, dove il giocatore è ricoverato, hanno fatto sapere che Folman si trova in terapia intensiva e che le sue condizioni adesso sono comunque stabili. Gli stessi rappresentanti della struttura hanno poi reso noto in un comunicato che è stata la famiglia del giocatore a voler rendere pubblica la notizia dell'amputazione dell'arto. Gli altri sopravvissuti, oltre a Folman, sono cinque passeggeri, sono due giocatori della sciapicoense, si tratta del terzino sinistro Alain Ruschel, 27 anni, vittima di una frattura della decima vertebra, di una visione spinale e del difensore Helio Zampier Neto, 31 anni, versa in condizioni comunque molto gravi a causa di un trauma cerebrale e una frattura esposta degli arti. Una tragedia davvero in qualche modo anche incommentabile, un incidente che ha unito però intera comunità sportiva, non solo brasiliana ma mondiale, ma in particolar modo brasiliana. I club brasiliani infatti hanno fatto una sorta di esposto comune, prestiti gratis e salvezza garantita per tre anni. Le società del Brasile Rao, ovvero il massimo campionato colcistico del paese sudamericano, hanno deciso di fare fronte comune per dare supporto allo sfortunatissimo club. In una nota hanno infatti chiesto alla Federcalcio brasiliana di adottare misure che evitino conseguenze sportive per la squadra vittima del tragico incidente aereo. Quindi la richiesta innanzitutto di assegnare la Coppa Sudamericana nella memoria della Chapicoense, una richiesta che è arrivata immediatamente dall'Atletico Nacional di Medellin dopo il verificarsi della tragedia che ha provocato innumerevoli vittime, anche le società del Brasile Rao hanno deciso di far fronte comune. La salvezza naturalmente per i prossimi tre anni e il prestito gratuito dei giocatori da parte di tutte le formazioni possono essere e devono essere, secondo i club brasiliani, un piccolo messaggio di unità e di supporto alla Chapicoense da parte di tutti gli altri club, tra cui Palmeiras, Corinthians, Santos e San Paolo e tutti gli altri in una nota congiunta. Un momento di raccoglimento che riguarda anche l'Italia perché appunto si parla di organizzare un amichevole toro sciape e Cairo ci sta subito, un sito brasiliano lancia la proposta nel ricordo delle due tragedie che accumulano i club, immediato sì del presidente diteci solo dove e quando, ha detto Urbano Cairo. Era arrivato appunto questo messaggio da un sito brasiliano, quattro tratti e il presidente Cairo ha detto subito diteci dove e quando. Una tragedia che unisce e un modo per sensibilizzare, mantenere il ricordo e unire a due momenti di grande sofferenza divisi nel tempo e nello spazio ma uniti dalla sofferenza. Il cordoglio su questa tragedia arriva sui campi di calcio, dalla Coppa Italia alla League Cup inglese, alla Coppa del Rei. Il lutto nel mondo del calcio davvero travalica ogni barriera. Ad esempio qui siamo in una serie di minuti di raccoglimento da parte di tutti coloro i quali sono scesi in campo in questi giorni, in particolar modo anche in Coppa Italia, si è tenuto questo minuto di raccoglimento. Questo è il Liverpool che naturalmente ha avuto anche, così come tutto il calcio inglese, momenti di tragedia indimenticabili a sua volta, ancora momenti di gioco in partite che non potevano non omaggiare. Qui anche una bandiera rivisitata del Brasile con i colori dei club locali. Abbiamo detto che tra le vittime c'è tra virgolette anche una sorta di italiano. È Felipe Maciado perché giocò nella Salernitana. In nove invece non sono partiti perché non convocati. Tra loro c'è anche l'ex veronese Wink, la prima finale della storia, la seconda partecipazione internazionale per la sciapicoense, finisce quindi in tragedia. Questa è la foto che sta facendo un po' il giro del web. Tre dei giocatori che non erano partiti per questo viaggio, questo viaggio verso la vittoria che è finito in tragedia e si trovano adesso nello spogliatoio da soli a dover comunque raccogliere in qualche modo le forze per andare avanti anche per omaggiare i compagni che non ci sono più. La sciapico, come viene comunemente chiamata, è un club che era nato solo nel 73 e fa parte della città di Sciapico, un polo di solo 200 mila abitanti nello stato di Santa Caterina, nel sud del paese del Brasile che fino al 2009 giocava nella Serie D brasiliana, una lunga cavalcata che si è spenta purtroppo nei cieli. Noi con questa notizia ci prendiamo un attimo di pausa e torneremo subito dopo con la terza e ultima parte della nostra rassegna. Tra poco.